1868, il nostro terzo matrimonio. Sembriamo così giovani. Porta i miei saluti sinceri a quella canaglia romantica con tendenza a suicide. Speriamo che sia soltanto romantico. Il fatto che tu te ne stia rinchiuso qui probabilmente attirerà di più l'attenzione sulla tua musica. Già, che rottura. Mia sorella ci sta cercando. Non dovrebbe stare in una cazzo di bara. Ho tanta, tanta fame. Il buon odore è arrivato fino a Los Angeles. Ci sarà da divertirsi insieme? Dobbiamo andare, adesso. Prego. È quella la roba buona? Precisamente. Tipo zero. Negativo. Io proteggo i suoi segreti e anche i vostri. Merda. Come hai fatto a vivere così a lungo e a non averlo ancora capito? Sei stato molto fortunato in amore, se posso permettermi di dirlo. A quello che ti serve non è quello che voglio io. Non è quello che ti serve 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 non è quello che ti